Il 29 dicembre si terrà a Pescara il domani oggi, aspettando il Futur Days. Vogliamo spiegare di cosa si tratta in particolare? È un evento di una giornata totalmente dedicato a futura innovazione. Si terrà al Circo Laternino durante le festività natalizie. Andremo a sperimentare quelle che sono le possibilità che il futuro ci regala attraverso la presentazione di idee innovative, di start-up, di progetti. Attraverso il Cinema di Fantascienza, una grande rassegna di film fortemente selezionati all'ultimo piano, musica con il DJ set di Max Casacci, fondatore dei Subsonica. E una serie di laboratori e workshop totalmente gratuiti, come del resto questo insieme di appuntamenti, con un occhio molto rivolto ai giovani che rappresentano davvero il futuro, ma anche ai più grandi, con laboratori di videomapping, di creazione, di robotica realizzati con il Lego Serious Place. E anche un laboratorio di prevenzione al cyberbullismo che mixa le arti marziali con la conoscenza delle tecnologie informatiche.